caro bollette con commercio invoca l'aiuto del governo trappole online sempre più pesaresi vittime di truffe raggiri le marche verso una settimana all'expo di dubai intitolato all'arbitro mattioli il playground di villa san martino cittadinanza sempre più attiva con riconoscere per amministrare buona serata buona serata a voi telespettatori telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati una nuova edizione di rossini news il nostro notiziario che in questo venerdì 18 febbraio apriamo occupandoci delle caro bollette si parla di aumenti del 200 per cento di imprese che preferiscono non produrre o che rischiano di abbassare le serrande e questo il dossier dettagliato con tutte le comparazioni delle utenze che la confcommercio marche nord ha presentato oggi al prefetto di pesero urbino tommaso ricciardi per farsi portavoce verso il governo del insostenibile stato di sofferenza di categorie quale commercio ristorazione e terziario il prefetto di pesero urbino tommaso ricciardi ha ricevuto questa mattina da confcommercio marche nord un faldone che mette nero su bianco le comparazioni di gran parte delle bollette delle imprese associate e i loro vertiginosi aumenti numeri insostenibili che si abbinano a richieste percorribili quelle rivolte ad un governo che rischia di far abbassare le serrande a imprese di commercio ristorazione ricettività alberghiera e terziario confcommercio prova dunque a far leva sul prefetto per indurre il governo draghi a misure concrete e non a fumosi pagliativi abbiamo consegnato al prefetto una serie di casi di bollette insomma della nostra provincia da cui si emerge che gli aumenti che le aziende devono sopportare non sono come dice la politica o anche una parte della stampa del 40 60 per cento ma tra gli aumenti del 2021 e quelli ultimi siamo oltre il 200 per cento di aumento e non c'è nessuna azienda in italia ma credo nel mondo che da un anno all'altro dopo aver fatto previsioni bilanci eccetera possa sopportare aumenti del genere peraltro in un momento in cui ancora nella nostra provincia non ci sono le strutture alberghiere aperte perché la grande maggioranza sono stagionali ma quando riapriranno con questi costi dopo aver definito già l'anno scorso i prezzi con i tour operator fatti i contratti fatti gli accordi si trovano in una situazione non gestibile per cui abbiamo chiesto al prefetto di farsi rappresentante della nostra provincia oltre che rappresentanti di governo per chiedere al governo come noi chiediamo nel documento interventi incisivi che non possono essere dei panicelli caldi come quelli che fino adesso ha fatto il governo servono interventi forti consistenti anche con uno scostamento di bilancio che pare che invece il presidente draghi non voglia non voglia realizzare chiediamo anche che ci sia giustizia perché anche l'ultimo decreto fatto dal governo ha previsto una riduzione degli oneri di sistema che sono la parte preponderante della bolletta energetica perché il 70 per cento della bolletta sono oneri di sistema cioè tasse accise decise dal governo tramite l'autorità la rera mentre solamente il 30 per cento è materia prima enormi le preoccupazioni di un settore alberghiero stagionale che deve ancora aprire i battenti ci disorienta perché non abbiamo anche un modo di sistema di come comportarsi perché se si alzano troppi prezzi la clientela non viene se non si alzano si chiude come si fa si sbaglia quindi se il governo non interviene ad aiutarci in qualche modo credo che quest'estate sarà veramente un'estate triste ci sarà anche una grossa inflazione cioè non ci sarà più potere di acquisto perché aumentando le bollette sia le imprese saranno in difficoltà ma anche le famiglie non avranno più potere d'acquisto per andare poi nelle attività commerciali nel terziario e questo sarà veramente un problema metterà ancora ulteriormente in ginocchio il commercio, le imprese e tutto il terziario quindi è importante intervenire e in questo momento la cosa su cui si può anche intervenire da parte delle amministrazioni comunali è sicuramente anche l'Atari nonché l'acqua cioè intanto intervenire sul concreto da parte delle amministrazioni comunali che è il punto in cui in questo momento sicuramente si può un attimo cercare di aiutare le imprese ma da parte del governo ci deve essere comunque un intervento importante non i 4-5 miliardi che si dice ma molto di più perché comunque quello basta per magari le grosse imprese ma per le piccole imprese saranno costrette a chiudere i lavoratori saranno costretti ad andare a casa e questo noi non ce lo possiamo permettere non vorremmo che le imprese che hanno resistito al lockdown da Covid-19 oggi debbano morire per il lockdown economico determinato da questi insensati aumenti del costo della bolletta energetica Forte decrescita dei ricoveri da Covid-19 nelle Marche che passano dai 340 di ieri ai 318 di oggi di cui 33 in terapia intensiva In calo anche i numeri dei contagi con 1.873 nuovi casi di cui 359 in provincia di Pesaro e così l'incidenza dopo diverse settimane torna sotto quota 1.000 con 989 casi settimanali ogni 100.000 abitanti 4 invece i decessi registrati di età compresa fra 82 e 92 anni Carabinieri della provincia impegnati in questi giorni nel contrasto a diverse truffe L'arma di Pesaro ha infatti individuato un cinquantene laziale presunta autore di un raggiro ai danni di una donna che aveva messo in vendita online un paio di scarpe per 30 euro Fingendosi interessato dell'acquisto il truffatore era riuscito a convincere la vittima a recarsi a un postamat per ricevere il pagamento e invece le aveva fatto con l'inganno effettuare diverse ricariche post e pay a suo favore per 1.750 euro I carabinieri hanno identificato anche il presunto autore di una finta vendita online di un triciclo artigianale in legno e ferro battuto costato 75 euro ma mai ricevuto Carabinieri di Montecchio che invece hanno seguito due complici un milanese e un pakistano che con l'uso di un centralino si erano finti operatori del servizio di sicurezza della banca di cui la vittima è cliente convincendolo a varie operazioni di pagamento a loro favore Infine a Gabicce Mare i carabinieri hanno identificato una donna campana autrice di una finta vendita di un cane di razza costato 150 euro ma mai consegnato all'acquirente La regione Marche vola negli Emirati Arabi per una settimana all'Expo Dubai 2020 portando con sé il meglio delle eccellenze imprenditoriali e innovative del nostro territorio È una tematica alla quale Rossini TV dedicherà uno spazio dedicato da domenica per una settimana tutti i giorni alle 18.45 tematica della quale vi aggiorneremo anche sul nostro telegiornale Rossini News Intanto il vicepresidente regionale Mirko Carloni ci illustra questa importante spedizione È una missione dopo tanti anni in quella realtà, in quel mercato emiratino dove in passato c'erano rapporti storici molto importanti e noi riprendiamo una tradizione di rapporti con una missione che è stata organizzata da molti mesi e a differenza anche di come si facevano in passato quest'anno noi abbiamo dato importanza a due fattori Il primo è un'operazione di branding cioè abbiamo creato con dei professionisti un marchio che sarà il marchio distintivo con cui le marche saranno presenti in tutte le fiere e che daranno la possibilità a tutte le aziende di utilizzarlo Il marchio sarà Marche, ovviamente, Land of Excellence perché l'eccellenza è sicuramente ciò che identifica di più la nostra terra ed è trasversale dalla parte enogastronomica, la parte vitivinicola a quella dei prodotti del lusso, della moda così come dell'eccellenza della meccanica, dei mobili passando per tutte le filiere produttive Certamente quello che noi abbiamo notato è che quello che il mercato emigrativo in modo particolare in questo momento richiede è la tecnologia, l'innovazione tecnologica e le imprese innovative Il secondo punto di questa nostra missione sarà la sussidiarietà cioè noi abbiamo fatto un bando con cui le imprese hanno presentato il loro progetto aziendale quindi non abbiamo invitato loro a Dubai noi abbiamo fatto in modo che loro presentassero dei progetti se ci sono pervenuti 22 progetti con un bando con la massima trasparenza queste aziende che si sono aggiudicate il bando compongono con i loro eventi aziendali la settimana dedicata alle marche e quindi noi avremo il massimo dell'imprendita marchigiana che vuole creare eventi di B2B di conferenze stampa, serate di evento, promozione tutto quello che è l'esposizione anche fuori dall'Expo cioè noi stiamo sfruttando l'Expo per creare un fuori Expo dedicato alle Marche Il 21 è il giorno più importante in cui noi come Regione Marche firmiamo un documento insieme alla Camera di Commercio di Dubai che è un organo che per gli scambi per il confronto aziendale è davvero molto importante diciamo che è la struttura dove con più facilità si entra su quei mercati Dopo la designazione delle due semifinali oggi è giorno di pausa per quello che riguarda le finale di Coppa Italia di basket a Pesaro non vanno invece in pausa le emozioni il comune ha infatti intitolato l'appena riqualificato playground di Villa San Martino a Gianluca Mattioli arbitro internazionale prematuramente scomparso nelle 2017 difficile trovare un modo più appropriato per onorare la memoria di Gianluca Mattioli Pesaro ricorda il suo compianto concittadino arbitro internazionale di basket scomparso nel 2017 e lo fa dedicandogli un playground completamente riqualificato dopo 20 anni di progressivo degrado quel campo da basket di via Ponchielli nel quartiere di Villa San Martino dove Gianluca è cresciuto luogo giusto con momento giustissimo per la dedica con le finale di Coppa Italia di basket in pieno svolgimento alla Vitri Frigo Arena che convogliano sul colorato playground di quartiere il gota della pallacanestro nazionale dal presidente di Lega Umberto Gandini a quello federale Giovanni Petrucci passando per i vertici del mondo arbitrale Stefano Tedeschi e Roberto Begnis a quello dell'amministrazione locale dal prefetto Ricciardi al sindaco Ricci ed esponenti della giunta Un significato che ha un alto valore sociale, ambientale e sportivo questo è un campo che penso sono 20 anni che non veniva più utilizzato ne parlavo prima anche con Ario Costa qui era impossibile giocarci perché le persone giocavano veramente notte e giorno campioni del passato e del presente quindi sono orgogliosa di aver ridato vita a questo luogo questo luogo che è anche il luogo di Gianluca Mattioli Gianluca è nato nel quartiere di Villa San Martino e a lui che abbiamo deciso di dedicarlo penso che fosse un segnale dovuto dell'amministrazione comunale Gianluca sappiamo tutti 32 anni da arbitro di basket 25 in Serie A quindi ha indossato la divisa nazionale e internazionale è stato un pioniere del 3 contro 3 un ragazzo sociale, socievole, altruista una persona che era un simbolo non solo in campo ma anche fuori è così che voglio riguardare a lui Un campo colorato e sostenibile realizzato dall'azienda Ecopneus con 3200 kg di gomma pneumatica riciclata l'immagine riportata sulla superficie è stata invece realizzata da Manuel Bernardini, designer vincitore del bando di concorso lanciato dal comune Presente naturalmente la VL con i suoi atleti Moretti, Demetrio, Tambone e Zanotti protagonisti dei primi canestri fra gli applausi e le emozioni della famiglia Mattioli Dalla sua prematura scomparsa abbiamo ricevuto veramente veramente tantissime manifestazioni di affetto e questa è a coronamento proprio perché avere in una città come Pesaro un campo così bellissimo un playground che lo ricordi è veramente il regalo più bello la targa io penso che tutti quelli che verranno a giocare qua a palleggiare e vedranno la targa sarà per tutti un'emozione enorme è veramente da parte mia e dei miei figli il ringraziamento di cuore per tutti quelli che hanno voluto hanno contribuito alla realizzazione di questo playground Pesaro Piange la scomparsa a 88 anni di Anna Guerra professoressa e politica già consigliere comunale e consigliere provinciale del nostro territorio Anna Guerra è stata anche per decenni punto di riferimento dell'associazionismo femminile della nostra terra le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece al progredire dei lavori che da mesi interessano il torrente genica è stato infatti concluso il rifacimento del parcheggio lungo via Tasso e la rimozione degli ostacoli al regolare deflusso delle piene uniti al consolidamento e alla riqualificazione dei muri perimetrali in cemento armato i lavori rientrano nel progetto di 2 milioni e 200 mila euro finanziati nel 2019 per ridurre il rischio idraulico del genica domenica 20 febbraio sarà stradomenica con diversi appuntamenti in città a cominciare dallo shopping arricchito dalla presenza del mercato cittadino in piazzale Carducci al mattino e di quello dell'antiquariato in piazza del popolo via Rossini e piazzale Collenuccio dalle 8.30 alle 19 aperti tutti i luoghi della cultura, i musei civici e la sonosfera il museo nazionale Rossini e casa Rossini, l'area archeologica di via dell'abbondanza e quella di Colombarone e ancora la sinagoga di via delle scuole la casa museo Gentiletti, il museo officine Benelli e la biblioteca oliveriana che aprirà le sue porte per due appuntamenti in particolare alle 16.30 con Ripensare i pesci visita guidata alla mostra De Piscibus con Luca Caimmi e Marco Cataddei mentre alle 17.30 ci sarà la visita guidata alle stanze della biblioteca oliveriana ovvero la sala dello zodiaco con la preziosa oliveriana world map e la collezione di manoscritti, medaglie e avori e poi la sala mosca dove è possibile visitare la mostra bibliografica su Dante Alighieri la sala letture e il deposito si chiama Conoscere per amministrare il nuovo progetto di cittadinanza attiva lanciato dal Consiglio Comunale di Pesaro che da marzo si apre a delle lezioni didattiche pensate per i futuri amministratori ma anche per comuni cittadini interessati a comprendere meglio i meccanismi della macchina amministrativa della nostra città Edoardo Razzi ha intervistato per noi sulla tematica il Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini Conoscere per amministrare è un progetto della Presidenza del Consiglio Comunale che darà la possibilità agli aspiranti consiglieri comunali, amministratori attuali consiglieri di quartiere, consiglieri comunali, cittadini che vogliono vivere una cittadinanza attiva di poter scoprire come funziona il Comune dalla storia della sua città, la storia urbanistica, la storia sociale di questa comunità fino a passare per gli organi di governo la tecnica politica, la tecnica di governo tutti i servizi che il Comune eroga e perché e come li eroga una possibilità che diamo chiaramente a metà mandato quindi a coloro che vogliono avvicendarsi e magari candidarsi alla prossima tornata amministrativa ma una grande possibilità che diamo a tutti per informarsi e farlo in maniera più consapevole Quante lezioni ci saranno? Allora le prime lezioni partiranno il 3 marzo il primo modulo che sarà di quattro lezioni se non sbaglio quindi il 3 marzo partirà il primo modulo e poi avremo sei moduli compreso questo quindi altri cinque moduli fino a tutto il 2022 un modulo al mese di circa due, tre, quattro lezioni in base alla dimensione e agli argomenti trattati nel modulo quindi fino a novembre 2022 Lezioni che saranno serali? Lezioni che partiranno circa le 17.30 quindi per consentire a tutti la partecipazione si svolgeranno in presenza nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro per cui il numero è limitato ma la partecipazione è libera e limitata per coloro che volessero partecipare anche in videoconferenza Gli argomenti, chiaramente partiamo con il primo modulo del nostro ciclo di conferenze che riguarda la storia della città partendo un po' dalla nostra popolazione picena perché si è insediato a peso e arriva chiaramente lo sviluppo sociale ed urbanistico del boom economico una base che ci consentirà di poi procedere con tutti quelli che saranno gli argomenti che riguarderanno in particolare i servizi gli organi di governo cos'è una delibera, cos'è una determina quali sono i compiti del sindaco, il Consiglio Comunale i servizi come vengono erogati Chi saranno i professori? I relatori del primo modulo saranno esperti o addirittura docenti della nostra Università di Urbino il primo modulo che riguarda la storia urbanistica, amministrativa e sociale della città interverranno Laura Cerri, Riccardo Paolo Guccioni, Marta Scavolini Silvia Serini, Andrea Girometti e Ilaria Favaretto interverrà anche per una testimonianza il sindaco Giorgio Tornati Si è tenuto questa mattina a Cartoceto un incontro formativo fra gli studenti dell'Istituto Agrario di Pesaro e docenti dell'Università Politecnica delle Marche nell'ambito del progetto Olive Get durante il quale i ragazzi hanno potuto apprendere le più moderne tecniche di potatura dell'olivo come ci spiega il servizio di Simone Celli Si fa presto a dire potatura Chi è del mestiere lo sa non si tratta soltanto di tagliare qualche ramo esistono tecniche ben precise approcci scientifici rigorosi e tecnologie sempre più all'avanguardia è a partire da questa consapevolezza che questa mattina si è tenuto un incontro nelle campagne di Cartoceto tra gli studenti dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro e i docenti e ricercatori dell'Università Politecnica delle Marche il tutto nell'ambito del progetto Olive Jet che vede il consorzio Cartoceto-Dop come ente capofila e che vanta la collaborazione tra i comuni di Cartoceto e Vallefoglia la consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università Politecnica delle Marche e la partnership di svariate aziende agricole un appuntamento formativo in piena regola a quello di oggi durante il quale sono state illustrate ai ragazzi le diverse tecniche di potatura dell'olivo tre tipi di potatura potatura minima, potatura intensa e potatura a corona che è tipica della zona di Cartoceto nello stesso tempo andiamo a far vedere ai ragazzi dell'Istituto Cecchi quindi direttamente quelli che saranno i futuri agricoltori del territorio quelle che sono le tecniche di potatura e le tecniche di potatura avanzata anche con la monitoraggio con i droni e con il laser che va a fare una struttura di quello che è l'olivo l'intento è anche quello di coniugare le tecniche più tradizionali con soluzioni tecnologiche che guardano già al futuro una innovazione che ci permette prima di tutto di monitorare le crescite in modo automatico da parte di strumentazione che può utilizzare sensori remoti quindi possiamo prima di tutto avere una visione da satellite poi una visione da drone e poi infine possiamo avere una visione da terra utilizzando anche degli scanner laser quindi la prova ci permette di vedere diverse tipologie di potatura da quella tradizionale fatta in zona a quelle innovative che permettono di avere una maggiore conicità delle branche e quindi un maggiore equilibrio che permette di avere sulla parte più bassa le ramificazioni utili è una cima che guida e controlla la pianta tutto questo può essere verificato e quantificato anche attraverso l'indagine laser di queste crescite in modo da poter avere la pianta che adesso abbiamo in campo averla anche in tridimensione dentro al nostro computer e quindi la possiamo analizzare e poi possiamo effettuare tutti i consigli per la sua modifica e per gli interventi da fare durante la stagione avere oggi la partecipazione di tutti questi ragazzi è per noi un orgoglio perché ci permette di avere anche la possibilità di formare persone che avranno una visione dell'olivicoltura più moderna da questo punto di vista abbiamo avuto anche quest'anno il primo laureato che ha fatto la tesi di laurea proprio su questi alberi sì è stata una grande opportunità e sto continuando adesso anche con la tesi magistrale e quindi dai sono abbastanza fiducioso tante dunque le novità in essere al punto da determinare un vero e proprio cambio di paradigma cambiamenti che finiranno per modificare anche il paesaggio l'aspetto di cui mi occupo è proprio quello dell'intensificazione culturale nell'olivo quindi il passaggio da modelli a bassa densità di impianto in cui abbiamo le piante singole a modelli a parete in cui si perde la singolarità della pianta e abbiamo una parete continua che può essere poi meccanizzata e gestita in modo più intensivo sebbene questo progetto sia principalmente orientato all'applicazione di nuove tecnologie e di innovazione anche uno sguardo al passato su come è evoluto il paesaggio olivicolo di quest'area che ha una tradizione centenaria se non millenaria è un aspetto molto importante perché? perché si affianca alla valorizzazione della qualità e della quantità delle produzioni per sviluppo di quello che è il turismo rurale che è un aspetto estremamente importante di sviluppo per lo sviluppo locale ed ora parliamo di sport e in particolare della Vispesoro che dopo la bella vittoria con la Lucchese è un sempre più robusto settimo posto in classifica ora non vuole fermarsi e domenica alle 17.30 sarà di scena nel match tanto complicato quanto sentito come quello della trasferta di Cesena un match che Mr. Banchini ha presentato così oggi in conferenza stampa ora si deve trovare e l'ho detto nell'ultima conferenza si deve trovare la continuità non dei risultati che quello abbiamo visto che calcolatrice alla mano ce l'abbiamo ogni sei partite i trenini sono sempre riempiti dalla media punti più o meno uguali fino ai decimali ma bisogna trovare la continuità dal punto di vista di questo tipo di atteggiamento e non è assolutamente facile soprattutto quando giochi ogni tre giorni e quando giochi contro avversari che hanno i tuoi stessi stimoli scusate però questo vuol dire essere una grande squadra e noi ho detto abbiamo l'ambizione di diventarci passando sempre da questo tipo di prestazioni e sapendo che quando ci sarà la partita dove bisogna soffrire mettersi sotto la palla e dare i calci dobbiamo imparare a farlo anzi dobbiamo imparare a farlo anche veloce perché subiamo sempre tantissimi falli e ne facciamo troppo pochi gli avversari vanno interpretati e sappiamo benissimo che se il Cesena gli piace tenere la palla noi all'andata li abbiamo dominati tenendola noi quindi bisogna capire riconoscere le situazioni e soprattutto bisogna saperle interpretare in maniera facile e veloce mi aspetto un avversario che dopo qualche prestazione ripeto diversa ritrovando la vittoria abbia grande entusiasmo rigioca in casa è stata una partita difficile come tutte le altre il vero punto è analizzare chi saremo noi è analizzare che cosa abbiamo nella testa e soprattutto ripeto con l'aiuto di tutti e la possibilità di usare tutti secondo me ritorniamo a avere quelle armi per poter fare scelte in funzione delle caratteristiche e questo spesso fa la differenza e con lo sport si conclude qui questa nostra edizione del notiziario Rossini News ora però vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata serata dedicata a Smart City Power Solution questo avvicinamento all'Expo 2020 di Dubai che vedrà le marche protagonista la Townet è una delle aziende presenti una delle start-up presenti a Dubai e vedremo questa sera appunto lo speciale dedicato all'azienda Cagliese alle 21.20 nell'approfondimento realizzato da Antonio Astuti e invece sarà Marco Cadedu a tenervi compagnia domattina nella rassegna stampa del sabato buongiorno Rossini come sempre l'appuntamento con la lettura dei quotidiani locali è in diretta alle 7.20 e per chi questo pomeriggio si fosse perso la lettura e il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Marco di Giorgio lo potrà rivedere domani alle 10.30 alle 16 e domenica alle 8 e alle 11 e Santa Messa che invece torna domenica 20 febbraio in diretta alle 11 e un quarto funzione che questa volta sarà trasmessa in diretta dalla parrocchia San Martino Vescovo di Pesaro e poi ve l'abbiamo anticipato nel nostro TG dal 20 febbraio tutti i giorni alle 18.45 approfondimento con la Regione Marche all'Expo di Dubai 2020 con diverse notizie dedicate a questa spedizione negli Emirati Arabi ed è davvero tutto per questa nostra edizione del notiziario ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei programmi di Rossini TV